E' sempre sulla passarica. Questo qui è olio benzi? No, no, non c'è niente. Io non riconosco quei soggetti, però è bello da grafica. Come fate a mettere insieme? C'è un programma? Sì, questo. Ma che cos'è? Ma è su YouTube o no? No, ma che programma? L'ho fatto io. E come hai fatto? Hai preso le foto e le hai messe insieme? Sì. Le foto le hai scaricate? Da? Dall'internet, io ho preso. Valentino, Valentino! E le hai messe su TikTok? No, no. Valentino, vada! Poi vado a vedere su TikTok. Valentino, vada! Io non riesco neanche a trovarlo. Allora, lì non si può. Vieni vicino a Opa Young. Vieni vicino. Oh, oh, che bello! Quando è bello col dito in bocca! Mamma mia, sapevo bello! Ma tiralo via! Che brutta che sei! Via, via! Via il dito in bocca! Oh, ma che cavolo fai? Ma sei piccola piccola se metti il dito in bocca, eh? Tu non sei piccola! Eh 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 sì sì! Allegra, allegra! Vedete come sei più bella senza il dito in bocca? Eh? Amor! Mi vuoi dare l'ombrello in testa? Io voglio questo. Questo si chiama ombrello, piano? Ombrello. Ombrello. Io voglio questo. Io voglio questo dare in testa al nonno, dico la verità. Eh? Non puoi aprire questo? No, non aprire. Non si può aprire. Non si apre dentro. Tu, oh, 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 oh. Hai fatto tutto? Alla. Tutto? Ehi, tutto! Tutto! Tutto, eh? No, non si può aprire. Allora, per quel piccolo? Sì sì, devi fare come Valentino. Sì, devono fare tutti i gesti colo. Sì, devono fare tutti i gesti che tu facterò. We, andiamo casa lì. Eh eh, quello è una, vuole andare... Aspetti, che lui deve andare a pagare. È già pagata? No, no, non ci ha pagato la metà. Non aveva soldi, ho detto gli altri ti riporto domani. Aspetta, ti devo guadagnare tempo, ti è presto, aspetta, aspetta, spegni questo, spegni, schiaccia qua, questo, questo.